Buonasera al dottor Stefano Merler, epidemiologo della Fondazione Bruno Kessler. Dottore, abbiamo sentito Arcuri, la curva epidemica si sta raffreddando? Buonasera, sì, diciamo che abbiamo osservato un rallentamento nella crescita. La curva non cresce più in modo esponenziale come fino a pochi giorni fa. Però questo secondo me non è sufficiente con il sistema sanitario, sia in area medica che nelle terapie intensive già sotto enorme stress. Bisogna che RT, che è il numero di infezioni che causa ogni individuo infetto, scenda sotto il livello di 1. Questo è il vero obiettivo. E così bisogna fare in modo che RT scenda sotto questo livello. Ma quando possiamo attenderci il picco della curva? Il picco ad oggi secondo me non è prevedibile, perché nessuno di noi oggi può dire, può stimare in maniera robusta quello che è l'impatto degli ultimi DPCM. È vero che abbiamo osservato recentemente una diminuzione di RT, della trasmissibilità quindi generalizzato. Però finché RT resta sopra 1, anche di poco, diciamo 1.1, significa che i casi, e quindi poi le persone che vanno in ospedale o in terapia intensiva, continua ad aumentare. Meno di prima, ma aumenta. Il giorno di picco coinciderà con il giorno in cui RT scenderà sotto 1. Quindi dottore, non si può fare una stima su quanto tempo serva per capire se gli interventi sono efficaci? Guardando al passato, a quello che abbiamo osservato anche nella prima fase della pandemia, per capire l'impatto degli interventi servono da 2 a 4 settimane, per avere un calo reale della trasmissione e poi per osservarlo anche nei dati. Diciamo che il 27 novembre, che se ricordo bene è il giorno in cui scade l'ultimo DPCM, potrebbe essere il giorno giusto in cui fare il punto per cercare di capire se quello che è stato fatto ha avuto un impatto vero, importante, oppure c'è da correggere qualcosa. Grazie, grazie dottor Merler. È sempre bene ricordarsi, ok. Teniamo in mente questa data del 27 novembre. Grazie e buon lavoro.